Centri di aggregazione sociale ad Arezzo due nuovi progetti nelle frazioni per renderli più inclusivi e al servizio delle comunità residenti. Due nuovi edifici polifunzionali rispettivamente a Prato Antico e Santa Firmina. Beh, riguarda la realizzazione di una struttura a servizio del CAS, una struttura cucina, spogliatoi, bar che è a servizio del CAS e delle tre associazioni che vi gravitano intorno, una per tutti la Don Franco che è molto attiva con la Via Crucis, tutti la conosciamo per la Via Crucis ma fa veramente tante tantissime attività e quindi è una risposta importante a una frazione che aveva un luogo che è stato rimosso, un edificio che è stato rimosso qualche tempo fa perché abusivo e oggi andiamo a realizzare questa nuova struttura che dovrebbe rispondere definitivamente alle esigenze della frazione. Stessa cosa avviene a Prato Antico dove c'è una prologo che è molto attiva, fa molte attività culturali, attività di ricreazione, ricreative e quindi abbiamo pensato di realizzare anche in questo caso una struttura analoga a quella di Santa Firmina in modo tale che le più di mille persone che risiedono a Prato Antico possano avere un luogo di aggregazione, un luogo dove poter tirare su anche qualche somma da rinvestire nel territorio perché sono associazioni quelle che gestiscono i CAS, le prologo del territorio aretino che rinvestono anche in attività sociali e attività culturali, è giusto che l'amministrazione gli sia vicino. Interventi importanti quando inizieranno e quanto incideranno nelle CAS del Comune? La gara per l'Appalto parte ora in questi giorni, entro fine anno, per la primavera inizieranno i lavori e dureranno circa 3-4 mesi quindi nel periodo estivo si dovrebbe vedere la conclusione dei lavori e l'affidamento delle strutture alle due realtà.